e ciao a tutti eccoci in questo nuovo video dopo un po' di tempo è tornato finalmente anche a Fiffon Pile ci sono stati un sacco di cambiamenti sia per la mia squadra sia per altre cose appunto nel gioco al negozio andrò subito a vedere se è un pacchetto gratis e direi che lo andiamo subito ad aprire a 10.000 punti allenamento direi che sono buoni sì sì sono buoni la prima volta che li trovo così tanti va bene sono in un'altra lega adesso hanno messo il calendario dell'avvento su Fiffon Pile dà premi davvero belli fino a 2 ore a 4 se ne sono raccolti perché oggi è 4 in realtà oggi è 5 stasera quindi si blocca questo danno ogni volta cose buonissime sicuramente i 31 daranno cose davvero bellissime quindi è una bella cosa questa dopo di che vabbè hanno messo una squadre la settimana ed è arrivata anche il questo non mi ricordo come si chiama vabbè comunque è forte pure lui però ci vuole tanto per sbloccarlo quindi non lo sbloccheremo mai sicuro comunque sono ho di nuovo un po' di energie siamo a 793.000 monete qua devo andare a settimanale non l'ho ancora fatto devo comprare questo qua da 25.000 ci dà addominio e punti energia siamo a 12 punti energia di nuovo di che vabbè abbiamo il riscaldamento un po' di cose che sono sempre le stesse quindi ci abbiamo da fare un po' di vabbè andiamo prima alla squadra c'è stato il black friday e quindi anche sul primo pile sono riuscita a prendere lui che è 88 quindi adesso è diventata di valutazione 83 la squadra andiamo un attimo alle attività per vedere che dovevamo fare come detto ha due prove abilità o partite in probabilità o partite in eventi quindi direi che andiamo a eventi adesso e quale ci andiamo a fare facciamoci giusto quello nuovo della squadra della settimana che è da due e poi facciamo quello dell'osservatore che non sono riuscito comunque a trovare buoni giocatori ancora nonostante ne ho aperti pure due da 5 ne ho aperti apriamo questo pacchetto 7 punti SDS la squadra della settimana ok siamo a 17 ci vuole tanto quindi andiamo a fare questo pure se carica andiamo a fare due qua e ci facciamo anche questo ok quello delle punizioni direi buono e facile da fare andiamo a farlo subito ok 9 su 10 ci ne manca uno solo però cerchiamo di prenderli tutte e tre due non ho preso quindi 11 su 10 ma va bene lo stesso diciamo continua e ci andiamo a aprire quello da 1 giusto per aprire qualcosina e troviamo un argento naturalmente dopodiché andiamo quindi attività ce le prendiamo queste e facciamo giusto vediamo che possiamo fare no va bene nel negozio niente in realtà potremmo aprirci un po' di pacchetti guarda questo pacchetto eh che a me servono queste cose qua potenzialmente abilità vediamo che ci sta più con le monete non c'è niente non c'è niente veramente con le monete ora partita bisogna fare la partita mi va a saltar a questo punto vedrete il titolo avanti purtroppo però no forse se lo metto qua no non tanto c'è un po' di meno eh quanta valutazione aveva oddio a 84 pensavo peggio da qua faccio sempre una tecnica così per non subire goal cioè non per non subire goal per non sprecare tempo in modo che l'azione è difficilissima da finalizzare quindi facciamo così facciamo primo dopodiché andiamo qua con i salt adesso vediamo ok 2 a 2 quindi buono andiamo con questo 3 a 2 per favore siamo 3 a 2 buono e che cos'è ecco come sprecare un'azione eh che cavolo però vai ti prego sì 4 a 3 buono ok se vinciamo è pure meglio oddio 5 a 3 buono dai costo 6 a 3 eccolo e vabbè abbiamo vinto direi meno che adesso non fa un miracolo che mi fa 4 goal in 3 secondi ecco pure 5 meno deve fare per vincere va bene così ci andiamo a completare un po' di attività ecco biglietto esperto oppure non è buono andiamo attività abbiamo completato altre 2 2 fifa points vediamo 2000 monete 20 di esperienza 6 fifa points 2000 monete e 25 punti esperienza siamo pure a livello 26 per questo video e tutto le cose più importanti i cambiamenti che vi ho fatto vedere soprattutto questo qua mi piace molto come cosa del calendario dell'avvento e quindi se vi è piaciuto questo nuovo video di Femobile spero vi sia piaciuto iscrivete anche il canale di Paul e Lolo ma soprattutto se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti i think i'm perfect 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 it's just perfect 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 i'm perfect